Sostenibilità, bene comune e uguaglianza sono questi alcuni dei temi del buon vivere. La manifestazione nazionale che quest'anno compie 10 anni e diventa festival. Dal 20 al 29 settembre Forlì e la Romagna diventano il cuore pulsante di quello che gli organizzatori definiscono festival di comunità. Artisti, intellettuali, politici si alterneranno per riflettere sui temi cari alla manifestazione, seguendo un filo conduttore che quest'anno è Incontri. Noi quest'anno abbiamo deciso di iniziare in musica in festa da Piazza Saffi per cui in maniera abbastanza inusuale rispetto alle altre edizioni l'inaugurazione sarà con Noemi quindi con un concerto musicale la domenica sera e la cosa che caratterizza questo festival che vede ovviamente tanti partecipanti da Mario Calabresi a Raj Patel un economista molto importante che parla di economia della condivisione che sarà intervistato da Gianni Riotta, Michela Murgia, Lamarsano e tanti altri, Gianmarco Tognazzi, Federica Angeli, La Fiammetta Borsellino, veramente tanti tanti gli ospiti che animeranno queste giornate ma ancora di più tante le realtà, oltre 200, che sono veramente l'osso dure, sono veramente la programmazione della programmazione. L'edizione numero 10 del festival porta con sé la prima mondiale di cibo, la mostra di Steve McCurry allestita ai musei San Domenico e visitabile fino al prossimo 6 gennaio. L'appuntamento più atteso, il momento sicuramente più atteso è quello dell'anteprima del Buon Vivere che sarà venerdì 20 settembre con Steve McCurry e con l'inaugurazione a livello internazionale, perché questa è una mostra che ha 80 scatti inediti, prende il via la mostra cibo come dicevo direttamente curata da quelli che sono i curatori del Buon Vivere grazie alla Fondazione Casa dei Risparmi di Forlì.